Rosa Canuto Rosa Canuto la prenderemo dalla scorsa stagione insomma che era in frantumi dopo la morte di Michele ma lei da brava donna sicula con il grande temperamento ecco la rivedremo che cuocirà i pezzi della sua vita molto piano insomma in mezzo a tante avventure non posso dire tante cose perché succedono talmente tante cose che è un peccato dirle cioè si devono vedere e vivere se ritrova l'amore non lo so nel senso che lei ha voglia di rinnamorarsi ecco posso dire questo perché è una donna intelligente sa che non può più vivere nel passato ma si deve ricostruire una vita, una vita sentimentale quindi sì chiaramente il filone sentimentale e amoroso fa parte di questa serie che l'amore è proprio protagonista di questa serie quindi io cavalco a pieno questo tema